S'intitola Ti presento mio fratello, lo spettacolo brillante che Gino Riviecio porterà in scena dal 24 gennaio al 2 febbraio sul palco del teatro Augusteo. Si gioca sull'ormai rodato modello di Nord contro Sud, anche se stavolta il protagonista della commedia non è un settentrionale con tutto il suo carico di stereotipi, ma un napoletano rinnegato, trapiantato a Lugano e ormai svizzero a tutti gli effetti. A sconvolgere gli equilibri dell'uomo arriva il fratello, con seguito annesso, che invece incarna tutti i luoghi comuni del napoletano tipo. Ascoltiamo l'attore. La storia di questo napoletano che vive a Lugano, dove ha sposato una donna svizzera e quindi si è integrato perfettamente in quelle che sono le regole, i criteri della vita svizzera e i suoi equilibri, sia sociali che alimentari, vengono sconvolti dall'arrivo di questo fratello da Napoli, che viene interpretato da Gianni Ferreri. Questo Peppe che piomba da Napoli con tutta la sua napoletanità, con la N maiuscola, ma anche con quelli che sono gli stereotipi della napoletanità e quindi questo può far immaginare cosa succede di fronte a questi sconvolgimenti, queste contraddizioni, queste contrapposizioni tra un napoletano che si è luganizzato e un napoletano invece molto fedele alle sue radici e quindi è una comedia divertentissima con questo bel messaggio che lasciamo alla fine dove è importante sottolineare questo, che è vero che si ha bisogno delle regole, è vero forse come dice la classifica del sole 24 ore che nelle altre città si vive meglio ma ci si annoia anche tanto, quindi voglio dire la confusione creativa di Napoli, la bellezza di Napoli, i suoni di Napoli, l'armonia, la genialità, la creatività napoletana farebbe bene anche a chi è abituato alle regole come uno svizzero. In scena con Gino Riviecio nel ruolo di coprotagonista l'attore Gianni Ferreri, noto ai tanti per la sua interpretazione in Distretto di Polizia. Un spettacolo divertente, hai detto, ho più ragione di questo, è uno spettacolo dove ci si diverte all'insegna del divertimento puro perché si divertono principalmente gli attori in scena, io con Gino mi sono trovato benissimo, uno spettacolo divertente che racconta una realtà un po' lontana dalla nostra, di questa Svizzera piena di regole, piena di codici che viene un po' sovvertita da questo fratello che arriva e mette, integralista napoletano, che mette un po' di colore, un po' di sconguasso in questa famiglia.